ciao oggi ho fatto una live in occasione della blender convention italia e ho mostrato questa presentazione ho pensato quindi di metterla anche qui su youtube dal momento in cui in una live a volte i video che si vedevano andavano a scatti per via delle difficoltà di connessione quindi spero con questo video di poter mettere a disposizione in condizioni migliori i contenuti che abbiamo discusso oggi nella nella live che comunque vi consiglio di andare a recuperare sul canale youtube di blender italia perché oltre a me hanno parlato altri artisti con degli argomenti davvero davvero interessanti quindi allora io volevo discutere come utilizzo blender nel disegno di fumetti quello che faccio io sono tavole a fumetti qui ci sono alcuni esempi di tavole fatte da me queste sono in bianco e nero e sono per il mercato italiano mentre queste sono a colori e sono per il mercato francese allora una tavola a fumetti è fatta da tantissimi disegni uno di seguito all'altro che vanno letti quindi come una storia e ci sono in più anche tutti i testi quello che faccio io sono libri a fumetti e utilizzo blender spesso per darmi una mano non ovviamente in tutte le vignette vi mostrerò quali sono i casi dove lo utilizzo allora qui ci sono alcune vignette in cui ho utilizzato blender per esempio in genere lo utilizzo negli ambienti questi sono degli ambienti naturali ma li ho scolpiti prima in blender per poter avere un senso di tridimensionalità anche queste botti con gli archi sullo sfondo sono state disegnate prima in 3d oppure in una situazione del genere gestire la prospettiva di tutti questi archi e questi mattoni non sarebbe stato facile a mano e ancor di più alcune situazioni decisamente complesse come una prospettiva in questo caso di una struttura esagonale quindi in tutti questi esempi blender mi è venuto in aiuto anche nelle vignette delle storie che faccio per la francia quindi queste sono vignette a colori nelle quali blender mi ha aiutato soprattutto a gestire la regia della scena quindi non tanto nella parte di disegno se non appunto nella prospettiva ma soprattutto poter gestire la scena dal punto di vista registico allora i fumetti che faccio sono appunto come dicevo di due tipi bisogna anche capire un attimo che quando diciamo fumetto diciamo qualcosa di molto generico l'oggetto cartaceo libro a fumetti non è tutti non rappresenta l'unico modo di poter narrare una storia fumetti esistono anche i web comic online quindi quello che dico io riguarda soprattutto il fumetto cartaceo che è quello che faccio io tra l'altro il fumetto si è sviluppato in maniera diversa in vari stati e quindi in italia per esempio siamo abituati i volumi che avete appena visto nel video piccolini in bianco e nero con la copertina morbida questi invece che state vedendo adesso sono dei volumi francesi che hanno un formato più grande hanno una copertina rigida e l'interno è completamente a colori essendo più grandi hanno anche posto per vignette per molte più vignette quindi il tipo di formato determina anche il tipo di lavoro che bisogna eseguire insomma e ovviamente essendo il fumetto un prodotto periodico bisogna anche tener conto del fatto che a volte ci sono delle scadenze da rispettare il libro deve uscire in un determinato momento in ogni caso un libro è un oggetto complesso c'è sì la parte artistica ma poi c'è anche tutta la parte di produzione vera e propria dell'oggetto libro comunque il il concetto da capire è che un fumetto è un'opera fatta da tante persone esattamente come un prodotto audiovisivo coinvolge molte molti professionisti li trovate scritti nel nel colofon si chiama quella parte iniziale di un libro dove sono elencati gli autori tipicamente come minimo c'è qualcuno che scrive qualcuno che disegna nel caso di fumetti a colori può esserci una terza persona che che fai il colore anche il testo nei balloon può essere scritto da qualcun altro è chiaro poi che ci sono degli autori particolarmente bravi che sono in grado di gestire tutte queste fasi da soli e quindi fanno tutto da soli dalla scrittura al disegno insomma comunque per quanto riguarda le fasi di produzione artistica per artistica intendo lasciamo perdere un attimo il fatto che il libro è un oggetto e quindi bisogna anche stamparlo portarlo nelle librerie se ci limitiamo alla parte di produzione del della storia sono più o meno queste le fasi abbiamo un soggetto che è la storia l'idea dietro la storia dopodiché questo soggetto deve diventare una sceneggiatura che è un testo molto tecnico nel quale sono elencate tutte le vignette cosa bisogna disegnare in ciascuna vignetta poi c'è una fase di documentazione soprattutto per fumetti che si svolgono in momenti ben precisi in luoghi ben precisi bisogna trovare l'iconografia giusta tutte le fotografie necessarie per rappresentare al meglio quello che dovremmo vedere questo porta degli studi quindi gli studi sono degli elementi gli studi sono un dei disegni che voi come lettori non vedrete probabilmente tranne in alcuni casi in cui vengono aggiunti alla fine del libro come elemento diciamo di curiosità sono sono dei dietro le quinte dei disegni che restano e che servono a studiare in una fase iniziale partendo dal punto dalle fotografie studiare tutti i personaggi dopodiché il lavoro da fare è quello di fare uno storyboard storyboard significa prendere la sceneggiatura scritta e trasformarla nelle varie immagini che compongono la vignetta vedremo con calma tutti gli esempi lo storyboard è un disegno molto veloce fatto con con proprio dei disegni rapidissimi che viene poi definito meglio nella fase di disegno vero e proprio in cui appunto si rifinisce per bene dopodiché il disegno va inchiostrato nella maggior parte dei casi perché c'è bisogno spesso la matita è molto sporca c'è bisogno insomma di ripulire il disegno di cancellare le parti di costruzione di tenere solo un bel disegno inchiostrato a quel punto bisogna fare le ultime due cose che sono mettere le parole dentro il balun e a volte anche disegnare il balun e colorare il fumetto questi tutti questi ruoli in genere corrispondono a delle professionalità ben particolari quindi la parte di scrittura viene curata dallo sceneggiatore io sono un disegnatore mi occupo appunto della parte centrale del lavoro dopodiché il letterista mette il lettering dentro mettere le parole nelle nuvolette e questa parte qua di lavoro la faccio anch'io nei miei fumetti francesi altrimenti potrebbe esserci appunto una persona apposita e anche la colorazione è un mestiere io stesso ho cominciato la mia carriera nel fumetto come colorista su disegni di altri blender mi viene in aiuto in alcune di queste fasi io mi occupo soprattutto delle fasi che ho lasciato in colore pieno quindi come vedete in parte della sceneggiatura la documentazione la curo e dopo ovviamente tutta la parte tipica del disegnatore e in alcuni casi anche il lettering o la colorazione soprattutto di illustrazioni o copertine blender in realtà mi aiuta in tutte queste fasi e potrebbe anche aiutare nella fase di colorazione solo che siccome non la curo io ho messo questa linea tratteggiata per dire che può venire in aiuto ma non è sempre il mio caso il caso dei miei fumetti per capire un po meglio perché blender può essere utile spiego brevemente di cosa si tratta il fumetto a livello produttivo stiamo parlando di qualcosa che deve essere venduto a un certo pubblico e che deve pagare gli autori che lo fanno quindi al di là del dell'aspetto artistico si può disegnare fumetti per il semplice piacere di farlo però ovviamente se c'è un mercato e questo mercato negli ultimi anni si è molto frammentato al giorno d'oggi è bellissimo oggi poter leggere mille fumetti di mille generi veramente non c'è mai stato un fervore artistico così ampio credo nel fumetto come in questi anni però questo cosa significa siccome i lettori il loro tempo soprattutto bene o male è quello che è non sono cresciuti anzi probabilmente sono perfino calati significa che dove una volta c'erano pochi fumetti che si dividevano questi lettori adesso ce n'è moltissimi a dividersi la stessa quantità di lettori e quindi ci sono meno soldi a disposizione per ciascun progetto e anche maggior concorrenza tra i fumetti questo significa che la qualità del fumetto deve essere alta perché i lettori hanno tanta scelta e quindi si rivolgono verso le cose fatte bene giustamente e anche soprattutto sono siccome appunto i fumetti si sono differenziati molto sono molto di nicchia ed è un pubblico quindi più coinvolto e più attento a quello che compra i tempi di realizzazione sono per forza più brevi perché in un mercato con maggiore concorrenza bisogna produrre più alla svelta e le due cose non vanno molto d'accordo alta qualità e tempi più bassi un'altra cosa che può essere facilitata dall'utilizzo di un software 3d è coordinare più disegnatori che devono lavorare sullo stesso progetto perché nel momento in cui più persone devono disegnare la stessa cosa se quella stessa cosa è stata realizzata in 3d è più facile ora questo è un esempio di pagina di sceneggiatura è una si tratta di un testo molto tecnico in cui pagina per pagina e vignetta per vignetta viene descritto cosa c'è nella da disegnare chi parla cosa dice e anche eventuali rumori quindi questo è quello che ricevo io a partire da questo quello che faccio è preparare questi brevissimi disegni che vedete a sinistra che sono proprio degli schizzi rapidissimi che mi servono a capire qual è probabilmente l'inquadratura migliore per quella determinata vignetta sulla base di quello io poi posso decidere come tagliare la pagina e questo lo vedete sulla destra quindi a seconda di com'è la scena quanto testo c'è ma anche soprattutto il tipo di ritmo che bisogna dargli determino la dimensione la posizione delle vignette perché ci sono delle regole da seguire i vignette più piccole in genere corrispondono a una narrazione più serrata e più veloce vignette più grandi rappresentano un momento di pausa e di relax e la narrazione si rallenta e poi ovviamente servono vignette grandi se ci sono tanti testi da stipare a quel punto quello che faccio è uno storyboard storyboard è un disegno rapido di quello che andrà rappresentato in ciascuna vignetta e come vedete metto anche i testi perché avendoli è importante posizionarli per riuscire a capire dove mettere i personaggi nella vignetta perché ovviamente ci sono delle persone che parlano e noi dobbiamo essere in grado di scrivere di leggere perfettamente guardate per esempio questa vignetta ci sono questi personaggi che sono in quest'ordine perché al di sopra i loro testi sono posizionati esattamente in quest'ordine in modo tale che il lettore possa capire nella vignetta successiva ovviamente i testi hanno un altro ordine e quindi probabilmente i personaggi si devono spostare tuttavia non possiamo in ogni vignetta spostarli continuamente da una parte all'altra perché la lettura sarebbe molto complessa quindi questa questa parte qui è fondamentale da da gestire blender mi aiuta nella regia perché dove ho delle fotografie e ne ho a sufficienza posso immaginarmi il luogo facilmente dove le fotografie non le ho oppure la scena è particolarmente lunga e quindi ho bisogno di gestire molte inquadrature quello che faccio è ricreare la stessa scena all'interno di blender come oggetto 3d questo mi permette di navigarci dentro e di poter immaginare ogni singola vignetta dove si trovano i personaggi e da che parte è meglio inquadrarli sia per il senso di lettura che proprio per la per la regia vera e propria della sequenza avere la scena tridimensionale è un grandissimo aiuto queste scene sono fatte con degli oggetti prelevati da dei repository online gratuiti perché in questo tipo di modellazione a me non interessa che l'oggetto sia ben fatto che ci sia una bella modellazione è un uso veramente solo di sviluppo della parte registica e perché blendere e non un altro software ce n'è tanti e ognuno si può trovare meglio con quello che preferisce tuttavia trovo che blender abbia un approccio molto immediato soprattutto appunto per un per un disegnatore ha degli strumenti come gris pencil per esempio che vedete in questo momento in uso che mi permettono di disegnare su degli oggetti tridimensionali in maniera del tutto simile a quella del disegno manuale su un foglio di carta è importante insomma che ci sia un feeling artistico e intuitivo che il programma non si frapponga tra me la mia idea e la sua realizzazione trovo che blender abbia questa caratteristica oltre a essere molto veloce perché come dicevo la velocità è fondamentale non posso passare mezza giornata a modellare una stanza perché in mezza giornata io di vignette ne devo disegnare più di una quando il una scena lo permette quindi magari coinvolge molte pagine molte vignette si può arrivare a dei livelli di modellazione che permettono di ricreare come in questo caso un intero ambiente e poi io con blender ci posso camminare dentro qui questo non è un'animazione renderizzata ma è proprio il viewport di blender nel quale mi muovo come all'interno di un videogioco con i tasti w asd sulla tastiera posso muovermi e far finta di essere uno dei personaggi o il cameraman che li deve seguire il cameraman virtuale e mi faccio venire tutte le idee per le migliori inquadrature delle vignette questo è uno strumento veramente veramente enorme che stimola la creatività in un modo che non era possibile fino a qualche anno fa ovviamente uno sforzo di modellazione del genere giustificato solo da sequenze particolarmente lunghe o impegnative perché appunto un villaggio intero è comunque anche impegnativo anche solo per una vignetta una volta che sia il rendering in 3d può essere utile anche nel disegno per risparmiare una parte del disegno a matita come vedete in alcune di queste vignette ho utilizzato il rendering al posto del disegno queste tapparelle non le ho disegnate perché avevo già a disposizione rendering questa pianta l'ho già a disposizione a partire dal rendering poi ovviamente non sempre rendering va bene come in questa vignetta qui le sedie potete notare che una non l'ho disegnata l'altra l'ho spostata il il vaso non corrisponde esattamente sul mobile ho aggiunto degli elementi che non c'erano tutte queste cose avrei potuto anche inserirle nel modello 3d ma probabilmente sarebbe stato inutile mi avrebbero fatto confusione ci avrei messo più tempo è più facile gestirle semplicemente in fase di disegno però è un buon aiuto avere già una parte del disegno pronta in alcuni casi come qui per esempio vedete questa sedia sarebbe anche complicata da disegnare ci ho appiccicato sopra un'inquadratura della sedia dalla miglior posizione che avevo e mi sono risparmiato una una certa fatica di prospettiva un'altra parte molto importante è quella della del posizionamento delle luci blender ha un ottimo motore real time che si chiama iv in cui si può muovere le luci in tempo reale sulla scena e quindi poterle muovere e vedere immediatamente il risultato mi permette di studiare varie illuminazioni per uno stesso ambiente anche se nell'ambiente in realtà è disegnato in maniera molto semplice però posso facilmente decidere qual è l'illuminazione migliore perché ovviamente la luce è una grossa parte della narrazione una stessa scena illuminata in modi diversi comunica informazioni diverse sentimenti diversi nella fase degli inchiostri trovo che sì che mi sia un po meno utile nel senso che alla fin fine il disegno a mano ha comunque un una sensazione che per ora non è raggiungibile dai dai rendering per quanto appunto esiste rendering come si dice npr non fotorealistic render cioè rendering non fotorealistico che può dare una mano in questo caso magari io lo utilizzo in modo solo in alcune parti per esempio in in questo caso potete vedere come il rendering di blender è a sinistra ed è già un buon lavoro sembra già un disegno in un certo senso però a destra potete vedere la versione disegnata che contiene molti più dettagli anche degli elementi vivi che nel programma 3d avrebbero richiesto uno sforzo di scultura non indifferente come il coniglio non avrebbe senso scolpirsi un intero coniglio solo per disegnarlo da un angolazione tanto vale disegnarlo in quell'unica angolazione che ci serve insomma comunque in questo caso in pratica il rendering di blender ha fatto da base per gli inchiostri qui invece vedete la pagina colorata dalla colorista che si chiama chiara zeppegno la colorista che ha colorato questa pagina e lei ovviamente l'ha colorata manualmente con attraverso l'uso di photoshop però senza utilizzare assolutamente i miei rendering e quindi in realtà finisce per aggiungere molto di più perché poter avere un'altra mente un'altra mano che aggiunge dettagli a quello che già c'è il risultato non può che migliorare e comunque volendo si può sperimentare con le funzioni npr di blender per avere un un rendering non fotorealistico insomma e quindi poter vedere la poter vedere un risultato che sembri disegnato questo è lo stesso villaggio di prima renderizzato un'animazione renderizzata con uno shader cartoon ovviamente non ci sono i colori perché non ci sono i materiali però questo è uno shader di tipo cartoonistico fatto con octane che permette di ottenere dei risultati simili a quelli di un cartone animato per esempio e se vogliamo andare oltre e quindi realizzare dei delle intere illustrazioni blender ci può venire comunque in aiuto queste tecniche che vedete in questo video sono tecniche ben conosciute da chiunque faccia concept art nelle quali appunto utilizziamo blender il per imbastire una scena in questo caso con degli oggetti che arrivano anche questi da repository online questi da mega scans ho piazzato un cubo volumetrico per fare un po d'atmosfera quello che ottengo è un rendering che vedete a sinistra che mi può fare da base per il disegno vero e proprio sulla destra e quindi in questo caso l'ho modificato moltissimo al punto che il rendering originale non l'ho utilizzato se non forse per quella roccia in primo piano però in alcuni casi come in questo potete invece vedere sulla sinistra il rendering fatto con i vi e sulla destra l'illustrazione e non c'è molta differenza ho aggiunto giusto qualche tocco questa è un'illustrazione rapida diciamo non è un'illustrazione ben definita però con un po di pazienza già in realtà comunque tutto questo l'ho ottenuto nel giro di un paio d'ore che sono un ottimo tempo per un'illustrazione di questo tipo la cosa carina di blender è che va d'accordo con molti software diversi quindi in questo caso la nave proviene dalla warehouse di sketchup come i mobili che avete visto prima mentre i tentacoli li ho scolpiti in un attimo con free di coat perché è un software che sembra fatto apposta c'è proprio un pennello tentacoli col quale ci se la cava in un attimo e in alcuni casi come in questo per esempio quando si fa un rendering che si può renderizzare anche lo z death pass cioè in pratica un'immagine che fa da maschera in base alla distanza dalla telecamera che in questo caso è stata utile per piazzare il personaggio a mezza strada tra il primo piano e lo sfondo potuto usarlo come maschera e sempre per il discorso blender va d'accordo con altri software nel caso di questa scena lo sfondo è stato realizzato con world creator le case e i muri provengono da sketchfab mentre i troll li ho scolpiti in realtà virtuale attraverso adobe medium e quindi ci sono diversi software utilizzati contemporaneamente quello che ottengo è un rendering nel quale mi accontento del risultato non è un risultato definitivo non è granché ma dopo mettendoci un po mano con in questo caso il lavoro è stato fatto su un tablet huawei con con un'applicazione che si chiama infinite painter per cui qui non c'è photoshop però per dire si può arrivare alla fine a un'illustrazione carina a partire da un rendering con un minimo di intervento di over painting successivo alcuni casi sono ancora più interessanti perché per esempio questo è uno shader quindi un materiale che ho sviluppato io che permette un tratteggio effettuato in tempo reale quindi all'interno del viewport di blender questo è iv posso vedere l'immagine direttamente tratteggiata con il tratteggio per di più posso facilmente cambiare i parametri del tratteggio in questione e ottenere effetti diversi e quindi queste sono sempre possibilità offerte da blender e ovviamente in questo caso serve un po di dimestichezza in più con il programma e con le sue caratteristiche però anche questa è una possibilità tornando prima al discorso di avere un disegno finito direttamente a partire dal solo blender siccome è comunque una mia passione il 3d in alcuni casi spingo lo studio dei personaggi a dei livelli più avanzati questo è un esempio di una scultura di quindi uno studio di personaggio portato al punto da farne una scultura qui la state vedendo all'interno di blender sempre in real time quindi non è un rendering è la normale finestra di blender potete ovviamente spostare le luci e inquadrarla da mille posizioni in questo caso la scultura l'ho fatta con zbrush ma solo perché ho più dimestichezza con zbrush in questo caso ma vedrete che le prossime versioni di blender hanno degli strumenti di scultura che sono evoluti davvero molto e quindi è possibile anche restare all'interno di blender e ottenere risultati del genere per di più una volta che la scultura c'è quello che si può fare è stamparla con una stampante 3d qui a destra vedete un'illustrazione fatta a partire dalla scultura e invece a sinistra è una stampa 3d che mi sono fatto della stessa scultura e quindi poter tenere in mano il personaggio è un una possibilità veramente il massimo dal punto di vista delle reference è ovviamente una cosa che faccio più per passione che per davvero per scopo tecnico nel senso che il tempo necessario a scolpire un personaggio a questo livello di dettaglio supera le necessità di un fumetto questo era quello che ho mostrato nella mia live sul per la blender convention 2020 ringrazio tantissimo l'associazione blender italia che mi ha invitato a fare questa presentazione mettendo queste diapositive qui su youtube spero che possiate avere una visibilità migliore dei video che appunto durante la live si erano un po persi qui sul mio canale ci sono i corsi che sto facendo gratuitamente di gris pencil per imparare a usare quello strumento in blender che è molto interessante per tutti gli artisti digitali seguitemi sui canali social e iscrivetevi al mio canale youtube se questo tipo di contenuti vi interessano grazie mille e arrivederci